L'azienda è un'azienda certificata biologica ma nella realtà dei fatti è più che un'azienda biologica perché è un'azienda in un'area circondata da boschi e torrenti, non abbiamo vicini. Mio figlio Filippo fa pratica di biodinamica nella quotidianità. Siamo un'azienda a conduzione familiare, io e mio marito abbiamo quattro figli di cui tre lavorano in un'azienda con noi. La più piccolina per ora è a Berlino ma anche lei ha intenzione di rientrare e produciamo olio d'oliva, vino, miele, aceto balsamico e una grande produzione di ortaggi. Abbiamo animali di qualsiasi genere ed è un'azienda vera, quindi è una fattoria in senso lato. La produzione di vino è una parte di tutto questo e siamo a 500 metri di altitudine e produciamo Merlot e Sangiovese. Sangiovese in prevalenza che blendiamo col Merlot e le etichette che abbiamo portato qui sono veramente molto piaciute. La cosa che mi ha molto divertito è che soprattutto sul periodico, che è la nostra etichetta di Merlot in purezza, gli importatori bevevano, non assaggiavano ed era molto interessante. L'altra etichetta è il Tiniatus che ha il 60% Sangiovese e il 40% Merlot e stiamo uscendo con i nostri primi bianchi che arriveranno dalla prossima primavera. Grazie a tutti!